MAI VISTO QUESTO! MAI VISTO QUESTO! Siamo a PUSH! LUIS DAI MENTON! Senti, ci siamo. Grandi. Come fai? Ho sonno di brutto mai svegliato così presto invitami alla miniera. Cosa sono? Le quattro e con un quarto, una cosa del genere. Ari! Signori, stiamo andando ai kart. Stiamo andando ai kart, io non ho bene idea di dove sia, né di che cosa succeda. Però tu sei un grande esperto ormai. Però sì, ormai grandissima esperienza. Oggi il fenomeno, probabilmente mi svinno però bene o male. Ci vediamo là! Cosa è tuo? Consegna del casco. Allora, questa kart è indoor. Quindi direi che non è asfalto ma è cemento. Ok. È tipo un... Tipo un cemento. Quindi è meno grit. In teoria meno grit. Meno grit. Kart sono monomarcia, quattro tempi. Qui? Dove te lavi? Lui in acceleratore ci siamo, lui. Prove libere, qualifiche, gara. Guarda Riccardo in Roma. Come si capisce quando devo rientrare? Bandiera. Bandiera a scatti. E poi bandiera blu, quella che sta ventolando lì. E quando arriva un kart più veloce in tempo. Ok blu. Per togliere dalle palle. Grande Federico. Grandissimo. Qui c'è il Biasino del Real Marza. Sei il numero uno tu. Grazie. Tu sei il numero uno. Ti ringrazio. Ciao grande. Ciao. Bernardini. Germain. Eccola qui. Ragazzi io la pista non la conosco, non la conosce nessuno. Non ho più l'età per fare queste cose. È incredibile. Si segue subito, si prende la scia. Andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo. Vediamo com'è la pista. Qua c'è una curva. Qua c'è un'altra. Qua c'è un torrentino. Grandissime prove libere per noi. Ah è Germain. È Germain. Adesso gli entriamo dentro. Ciao Germain. Eccolo qui. Deri è morto. Oh che conto stesso. Luis Trevento. È impazzito. È impazzito. È impazzito. È impazzito. Nooo. Si chiude la porta e si va. Quasi schianta, quasi schianta. Quelli entri dentro. Nooo. Che cosa starà dicendo quello lì? C'è il casco. Che ne è che è pesante di più. Non deve più barbler. Si è fermato. Si è fermato? Oh tutto ok. Tutto ok. Mi sono solo riposato. Fermiamoci anche noi. Oh. Perché si è fermato? Mi sto spompando già le quali. Mi serve almeno per le qualifiche. Sto duro. Dai dai. Seglimi. Ma mi devo riposare. Seguimi bene. E' largo qua. Stringi. Sacrifica. Sacrifica. Bravo. Freno. Lo faccio girare. Contro stesso. Rientro. Rientro stretto. E mantengo tutto pieno. Si chiude. E si esce largo. A pelo. Così. Un giro di Holy Cup. Con Charles Leclerc. Bene bene. Mi è piaciuta questo. Mi piace là. Mi piace là. Guardalo qui. Devi sacrificare un po' di più. Non ti sento. Cerca di staccare un po' prima. Ok. Perché a volte stacchi troppo tardi. E metti la curva semi-ubriaco. Abbiamo già capito. Ho capito un cazzo. Ho fatto un errore. Si riprendono l'energia e si va a vedere il tempo. Guardo i tempi. 39-1. Box. 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 Mamma mia. È stancante veramente. Federico ha provato a dirmi qualcosa che io non ho capito. Andiamo dal Real March. Eccolo qui. Oh. Che? Hai visto? Secondo tempo. 7-10 di me. Mamma mia. Sono stanchissimo. Ma ti sei drogato? Madonna. Ma fa un budget. Non si può fare. Perché vai forte? Eh. E' andata bene il giro. Quindi adesso c'è pausa. E poi facciamo la gara dopo. Mi devo bere. Devo riposarmi. Però gran giro eh. Dimmi che ho fatto un bel giro. Allora questo è il risultato. Prove libere e qualifiche. Ok. Prove libere che io poi non ho capito che sono state qualifiche perché c'è la bandiera. Ha messo la bandiera. E io ho rallentato. Eh ma io sono stato intelligente. Infatti in prove libero ho fatto 37-4. Eh si te l'avevo detto. In qualifica ho fatto 38-3. Alessio secondo. 38-8 in prove libere. E poi in qualifica ha fatto 46. The Real Marza ha fatto 39-1. Eh beh cioè. Meno di due secondi. Però non è male. Quindi ora partiamo in gara. Io. Marza. Biasino. Germain. E Paul Jack. E io parto ultimo però. Ti vuoi mettere dietro? Dietro. No. No. E quindi io parto in Paul. Ma no tutta quest'ansia alla botta. Però lo sapevo. Allora facciamo un esperimento. Una vera sfida. Parto ultimo. Ma conto fino a 10. 10 secondi. Cioè conto fino a 10 al verde e poi parto. Ah beh sono. Scusa scommettiamo. No che cazzo scommettiamo? Se mi prendi un secondo a giro che cosa scommettiamo? Secondo me faccio fatica. Due secondi a giro peraltro. Secondo me non ce la faccio. Io l'importante è te lo dico. Se devi passare a Pischia. Trovando un modo io me levo. Chiamo. Con il numero 44. Per la millesima pole position. Secondo me non ce la farò mai. Con i 10 secondi. Scalda le gomme. Real Marz. Conosce e capisce i limiti della pista. Guarda quello che scalda le gomme. Guarda quello di. Scalda scalda. Sposta. Formation lap. Quasi in conclusione. Cerca di capire le linee Hamilton. Ma è un fenomeno. Lo sa da subito. E si ferma sulla posizione. Quella che gli spetta. Quella che giusto i campioni possono avere. Quella a sinistra. Davanti. Vai Marza. 5. 4. 3. 4. 2. 3. 1. E parte subito. Il primo giro. Questa incredibile. Questa. Partiti. 1. 2. 3. 5. 6. Ed è subito. Mette il sacco. Da parte di Real Marz. 8. 9. 10. Sono già lì. Devo spingere ora. Andiamo. Andiamo. Push. Ma se vola. E vola. E vola. E vola. Ma hai visto questo. Ma hai visto questo. Ma hai visto questo. Primo sottosso da fare. Mi lascia andare. Quasi mi uccide. Per io è Marza. 38. 8. Ma quanto va? Gazzarismo. Gazzarismo. Porco. Gazzarismo. Davanti a me. Però dentro è cattivo. Dobbiamo sacrificarlo. Dobbiamo uscire bene. Incrociamo. Andiamo. Belli cattivi. Dai. 7.2 ho fatto. Ho fatto. 7.2. Ho fatto. Ho fatto due secondi con questo giro qui. Bella. Bella. Bella la traiettoria. Bella. P3. P3. Sul problema sarà Marza. Che non mi farà mai passare. Male. Male questa. Puoi incrociare. E incrociamo. E andiamo. Facciamoci sentire. La presenza. Eccolo. E' morto. Dove ti parte? Non fa la retro. Muati tutti. Non va in retro. Dove cazzo ti va in retro? Grazie. Riparte la gala. Ti riparte. Non è giusto niente. Ti frutta. La teppica. Allora a questo punto facciamo passare tutti. Prego. Li facciamo passare tutti. Non va la retro. Avete mai visto un kart con la retro voi? Io no. Yasino. Eccolo qui. Si butta all'interno. Eccolo. 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 C'è una bella lotta lì davanti. Non devi sbagliare, non devi sbagliare! È sotto pressione! Lo sapevo! È arrivato all'interno però! Guarda quanta velocità porta! Uh che barata! Aia! Mi ha ucciso! Va forte signori! Va forte! Evitolo deve sottostare! A quello che è! È un meraviglioso max per Stappen! È qui! Grande new wave! Troppo più forte! Vai troppo più forte! Un po' di drifting! Serie Marzo! A prima gara! Grazie! Siamo pronti al momento della premiazione! Sale sul terzo gradino con il kart numero 10! Boyac Orsema! Bravo! Secondo posto kart 4! Terel Mars! Kart numero 2! FLEO! Grazie! Lo champagne! Champagne! Io direi che ci siamo divertiti! È stata la prima esperienza in kart! Molto divertente! Quindi la prossima sarà su un kart vero! Due tempi! È l'amoro! Quindi commentate qui sotto! Questa è la prima coppa della vitamina! Questa la riempiamo oggi! Bevo l'acqua frizzante! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!